Subitamente quando si affronta il tema della memoria e del ricordo si pensa sempre a ciò che è stato il male, alle violenze, mentre questo spettacolo è stato molto interessante e anche il pregio che ha messo in risalto anche il bene, ciò che è stato le buone azioni delle persone che hanno aiutato, un po' come fosse una luce in una stanza buia. Per cui anche la mia domanda è inerente a cosa si può fare oggi in situazioni analoghe, prenda vita in questo contesto aiutandoci a riflettere meglio, a sviluppare un pensiero critico e a sensibilizzare sul tema dell'umanità, quindi ciò che siamo tutti uomini, l'aiuto reciproco e non lasciare indietro nessuno.